Arrivato alla sua quarta edizione, il Festival Percorsi sceglie di assumere una veste ufficiale per il rilancio carico di nuova energia. Tornerà infatti in presenza sui palchi e lungo le strade delle città, ricalcolando i percorsi, correndo lungo i territori e occupando gli spazi noti alla ricerca di nuovi stimoli e suggestioni. Gli appuntamenti si terranno dal 5 all'8 maggio con il filo conduttore del tema, ovvero il contrasto alla violenza di genere. Le città toccate per il Festival organizzato da Percorso Donna saranno Pesaro, Fano e Durbino. Il Festival Percorsi quest'anno ha la sua quarta edizione ed è una manifestazione con la quale sui territori della provincia di Pesaro Urbino l'associazione Percorso Donna intende proseguire la sua azione infaticabile di sensibilizzazione nei confronti della violenza di genere e nei confronti della prevenzione della violenza che si può fare anche attraverso eventi come questo. Un festival di quattro giorni dal 5 all'8 maggio sui territori della provincia di Pesaro Urbino, quindi si parte da Urbino il 5 maggio, poi si arriva a Pesaro e a Fano il 6, il 7 e l'8 maggio. Siamo partiti con uno spin-off su Gabice, il festival infatti è patrocinato dalle istituzioni dei comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Gabice dalla provincia di Pesaro Urbino, dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche che ha ritenuto questa iniziativa di valore per la prevenzione della violenza maschile sulle donne e gli specifici eventi sono anche patrocinati da singoli istituzioni che hanno scelto di essere parte di questo progetto che Percorso Donna porta avanti ormai da 4 anni. Per esempio il Parlamento Europeo ha deciso di patrocinare l'evento che si terrà presso la Sala del Consiglio Provinciale venerdì 6 maggio sul tema dei sex offenders e della violenza di genere. Numerosi appuntamenti che potete trovare sul nostro sito percorsodonna.com in cui il programma è scaricabile alla voce percorsodonna.com slash percorsi dove troverete anche eventuali aggiornamenti in tempo reale. Vi aspettiamo quindi per la partenza del festival giovedì 5 maggio a Urbino al Teatro Raffaello Sanzio perché il festival percorsi quest'anno attraverso il ricalcolo dei percorsi dopo due anni di pandemia arriva anche nella città di Urbino. Al Teatro Raffaello Sanzio ospiteremo Gabriella Grayson, la rock star della fisica. Quindi non mancate questo appuntamento straordinario, l'evento è gratuito, tutti gli eventi del festival percorsi sono gratuiti con prenotazione per il Teatro Raffaello Sanzio all'indirizzo mail prenotazioni.percorsi.gmail.com Ringraziamo per la possibilità di realizzare questo festival, la rete è grandissima di sostenitori del festival in particolare quelli che quest'anno come Mendo e Honor hanno scelto di dare un contributo essenziale quindi ricordiamo la Saponaria che ha realizzato per percorso donna un prodotto ad hoc che presenteremo la prima sera del festival, quindi proprio a Urbino il 5 maggio e Rosso Cuore e Paola Brunello che hanno realizzato un gioiello per il festival percorsi per l'associazione percorso donna il cui ricavato andrà devoluto interamente ai nostri progetti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne l'azienda Centro Service, l'azienda Schnell e Gianfranco Vacca, consulente finanziario tutti hanno deciso con un contributo davvero essenziale di consentirci la realizzazione del festival quindi grazie e vi aspettiamo il 5 maggio giovedì sera al Teatro Raffaello Sanzio per partire con percorsi 2022 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti